Si chiama Nicole Felicity, è un'esperta dell'abito degli shampoo, forse possiamo considerarla come una shampista, ma in realtà è una hairstylist famosa per un video in cui va a, diciamo così, narrare quelli che sono i segreti di una chioma perfetta, avere una chioma perfetta è possibile, infatti quasi tutti fanno uno sbaglio piuttosto emblematico durante il lavaggio. Bisogna infatti applicare in maniera corretta il balsamo e lo shampoo, entrambi, senza difficoltà e senza paura di sorte. Infatti lo shampoo va applicato per ben due volte per un uso corretto e per avere una chioma, quindi una capigliatura pulita al 100%. Una prima volta deve essere il detergente, che serve per andare a togliere da tutti i capelli quei piccoli residui di lacca o tracce di altri prodotti, i batteri, lo smog, l'inquinamento atmosferico che si accumula. La seconda volta lo shampoo farà il suo corretto dovere. Bisogna ricordarsi che la parte più importante, infatti, è la pelle, la cute, che va lavata con molta più attenzione rispetto ai capelli in sé. L'esperta, quindi, consiglia di utilizzare e di sfruttare il detergente alla base, alla sommità, ma assaggiare con una precisione possibile, lasciando da parte le lunghezze che verranno lavate quando la testa verrà risciacquata con l'acqua. Il balsamo, invece, va sfruttato dalla nuca fino ad arrivare alle punte. Va bene? Ok, vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Brava Nicole, hai dato dei consigli eccellenti. Grazie a tutti.